salve a tutti ragazzi benvenuti in questa nuovissima puntata di scrap mechanic benvenuti 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 alzo un po la webcam perché fa più figo e perché può ebbene sì questo oggi siamo pronti per fare una macchina con quattro ammortizzatori eccola qui signori e signori ho costruito una macchina da corsa con quattro ammortizzatori dietro e novità delle novità c'è stato un aggiornamento di scrap mechanic e adesso c'è anche il clacson l'ho messo qui quello in basso a destra e poi dicono che hanno risolto alcuni problemi di crash perché effettivamente crasha molto adesso vi faccio vedere un po come va questa macchina e direi che fa la grande aspettate allora in penna nonostante abbia messo un alettone dietro in penna che è una meraviglia vai come prende un po di dislivello così in penna però poi scende lentamente non ho capito come mai non ci gira oddio ebbene sì allora adesso vi faccio vedere un po come ho agito in pratica qui se togliamo questo qua allora vi faccio dire bene qui c'è un burring cioè c'è un cuscinetto tutto quest'asse qui che è collegata anche con le loro davanti oscilla però è bloccato da queste sospensioni che vanno a finire dietro a questo blocco che è fisso questo qui è un blocco fisso quindi tutte queste sospensioni vanno a finire qui quindi il moto delle sospensioni alimenta anche le sospensioni avanti che a loro volta hanno delle sospensioni in verticale non in orizzontale che vanno a finire al centro del veicolo ecco è un po po qui davanti ho dovuto fare questa forma di questa cosa qui per come zavorra per mettergli più peso avanti ma come potete vedere continua ad impennare però voglio pesfizio voglio vedere se io metto ancora più zavorra avanti ha il cartello di lavano adesso glielo ho tolto glielo dovrei rimettere perché fa più figo ma io adesso se lo metto subito questo ma io ce l'ho già ce l'avevo già non l'avevo visto allora un bel cartello così a tutto al contrario così e adesso ci siamo vediamo coppizziamo avanti se in penna adesso non è in penna e va molto più veloce andiamo amici quindi dovrei fare una punta così lunga per non farli impennare però guardate come prende qualcosa che non può impennare lo senso abbiamo preso addio oh si è girata si è bloccato qualcosa che gira da sola guarda niente sarà girata ma l'auto che si autoribalta no no purtroppo no quindi dovremmo fargli una punta così lunga avanti e come potremmo va non lo so funziona come ruote di scorte no nemmeno bruttissimo però allora vediamo vediamo così come va però vedete pam prende qualcosa sotto e inizia a volare l'auto proprio andiamo dritto oddio l'albero preso in pieno ci siamo incastrati addirittura ebbene il motore diesel è un motore da 120 cavalli posto al posteriore dell'auto si qua ci sono 120 cavalli di potenza turbo compressore reat fire snake che sono termini un po' più tecnici lo so che voi adesso non l'avete capito però per gli amanti dei motori sicuramente c'è qualcosa si non so cosa sto dicendo va bene va bene lo stesso turbo diesel iniezione trijet brady x fine xp ecco però a me mi piace così beh gente che mi continua a messaggiare su scrap anche se voi avete steam cioè se mi inizia a messaggiare su steam se voi avete steam mi potete aggiungere il mio nickname è zerk in love zerk in love come chi mi conosce su robbercraft sa già anche il mio nick è lo stesso solo che è tutto in piccolino magari ve lo metterò anche in descrizione però questa è noto da corsa davvero formidabile come potete vedere solo che queste sospensioni un po' così non lo so non ne ho idea proviamo a saltare si vola niente non ce l'abbiamo fatta a saltare non mi direi che ti autoribalti io salgo solo aspetto così e acceleriamo così è lì indietro no niente no stiamo girando di nuovo no niente niente da fare cosa ne pensate di quest'auto eh ne ho fatto una prima è meglio come ve la faccio vedere fa davvero pena con quelli 4 ammortizzatori questo è l'unico modo per mettere 4 ammortizzatori in maniera lineare in modo da fare il veicolo un po' più affinato diciamo poi ho messo le due ruote dietro più grandi perché giustamente fa più figo e va bene così come vorrei che il creatore di questo di questo game avrebbero sistemato un po' la lag perché così tutte le mie creazioni avrei fatto costruito un garage gigante con tutto con dentro con dentro tutte le mie creazioni non riesco più a parlare non so perché però va bene così va bene va bene va bene comunque comunque andando avanti adesso nell'episodio molti di voi non hanno capito come ho costruito l'ascensore cioè o meno mi chiedono come si fa un ascensore e in questo episodio vi farò vedere come si fa un ascensore ci sono vari tipi di ascensori io vi mostrerò adesso quello più semplice poi magari farò altri video in cui vi mostrerò gli altri tipi di ascensori questo è quello più semplice quindi lo potete fare tranquillamente allora fate una base una piccola base sopra gli mettete diciamo una spunta anzi mettetene due che è ancora meglio due spunte poi mi prendo i burring poi 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 useremo del legno perché deve essere leggera altrimenti non si alzerà mai e cominciamo a mettere il primo burring e una bella sticella di legno così qua gli tolgo la punta poi per facilitarci a costruire ci mettiamo anche un controller un controller vi raccomando attaccato perché se io lo metto qui faccio vedere non me lo fa collegare se lo metto attaccato invece si ecco qua faccio vedere adesso si collega pam diritto bello preciso poi voglio usare voglio usare voglio usare dove sono questi così qui perché mi piacciono li mettiamo in questo modo pam e gli mettiamo un altro burring qui un altro di questi al contrario e ci andiamo a mettere un altro pezzo di legno attenzione quando lo mettete di puntare verso quello sono altrimenti l'ho attaccato a quest'altra forma a quest'altro pezzo e quindi non funziona quindi dovete puntare verso quest'altro pezzo qui che si chiama aspettate come si chiama questo pezzo qui duke corner chiamiamolo corner dovete puntarlo verso il corner altrimenti non si piazzerà la stessa cosa anche qui puntiamo verso l'asta di legno e piazziamo il corner quindi burring l'altro corner e il legno in questo modo sempre sottile così poi corner il burring un altro corner pezzo di legno penso che così vada bene quindi andiamo a mettere sempre il corner puntando il pezzo di legno ci mettiamo sempre il burring e qui gli togliamo questa parte e qui gli facciamo il nostro ascensore allora magari facciamo un punto verso il basso e ci facciamo una bella un bel piano penso che così vada bene sì attenzione non puntate a terra sono taccate a terra ecco quindi facciamo così adesso facciamo una cosa molto veloce penso che così vada bene ok andiamo a fare tutti i collegamenti allora uno poi colleghiamo quello come due questo il tre poi colleghiamo il quattro poi colleghiamo il cinque che è dove sta l'ascensore ok qua facciamo una specie di scalino penso che va bene così per salire sopra e ci siamo fin qui adesso ci serve un bel pulsante questo è il più semplice con un'unica salita se si può dire così un unico pulsante un'unica salita poi magari se c'è tempo vi vorrò vedere anche come mettere più di un pulsante allora mettiamo sempre il pezzo di legno per rimanere in tema io lo mettiamo qua verso l'alto così gli vado a mettere un bel corner così e il pulsante qua mi piace così ok il pulsante lo andiamo a collegare al controller e gli mettiamo al controller che quando noi schiacciamo il pulsante il primo deve andare a 90 gradi il secondo a 180 il terzo a 180 il quarto a 180 e l'ultimo a 90 così 180 180 180 180 ok velocità mettiamo al minimo anche perché adesso sono stati settati bene ecco per iniziare mettiamo un pulsante qui perché altrimenti non riusciamo a settare per togliere un collegamento basta premere shift e cliccare qui verso il controller tipo così vedete premete shift e si toglie e andiamo a collegare questo tasto qua perché voglio provarlo da qui allora schiacciamo ok questo è sbagliato per esempio va al contrario poi questo va bene ok è andato a 90 poi ci sta quello lassù va al contrario ah non si è collegato vedete qua ho fatto l'errore di collegarlo al pezzo di legno e non al corner ok allora ripremiamo il tasto e facciamo scendere tutto giù si è bloccato tutto ok allora quindi dobbiamo rifare tutto che cos'era che era sbagliato allora fammi vedere un attimo facciamo allora questo mi sembra che va al contrario vediamo così no questo al contrario questo qui quindi 3 va al contrario vediamo ok adesso bene o male ci siamo quasi ok quindi l'ultimo quindi allora il primo non il secondo non il terzo non il quarto ma il quinto che non è collegato il quinto non è collegato l'ultimo abbiamo sbagliato questo qua non è collegato cazzo 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 allora dobbiamo togliere tutto purtroppo è così quando si sbaglia non c'è modo di rimediare in un altro modo vabbè volevo voglio cancellare così non me lo facevo cancellare ok questo non è collegato quindi togliamo questo togliamo questo se io adesso vado a togliere questo qui infatti lui non se ne cade questo deve cadere perché ho sbagliato ok allora quindi andiamo a mettere il corner qui che si andrà ad avvitare e poi questo mirando verso il corner così mettiamo un altro qua così così e qui avviene la censura facciamolo diritto così proprio sì facciamolo diritto quindi colleghiamo questo l'ultimo abbiamo detto che era di 90 si doveva girare e vediamo adesso se va quindi prendiamo il tasto no quello lì è sbagliato questo va al contrario quello che abbiamo collegato adesso in pratica sì ok schiacciamo il tasto vediamo no e anche questo è al contrario il 5 il 5 ok vediamo voilà il nostro ascensore è pronto volendo potremmo metterci anche degli ammortizzatori sotto chissà come viene quando a terra quando cade giù proviamo vediamo vediamo voglio fare un atterraggio morbido eh diciamo magari sotto gli ammortizzatori ci dovremmo mettere anche qualcosa mettiamoci solo dei pezzi di legno tanto per 1 2 3 e 4 vediamo un po' come fa eh sì mi piace mi piace sto fatto mi piace mi piace davvero ok 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 quindi gli facciamo delle scale no peccato che non è diritto no anzi eh sì purtroppo non è diritto va bene va bene così ok quindi al nostro ascensore gli facciamo un piano per poter entrare sopra no così e così poi questo va qua anzi sai che ti dico invece di mettere i pezzi di legno mettiamoci questi no è che sembra ancora più figo ruotiamo in mani no così no così nemmeno mi piace però non c'è uno tutto chiuso proprio un quadrato tipo questo chissà quanto è lungo vediamo eh non è tanto lungo va bene va bene così va bene intanto noi ci dobbiamo mettere questo qui e il nostro pulsante quindi andiamo a scollegare questo pulsante qui con shift e ci andiamo a collegare questo pulsante qua che sta sopra l'ascensore ok fin qui ci siamo adesso mettiamoci una protezione maggiore vediamo questi se vanno bene perché comunque dobbiamo proteggere noi che siamo sopra cioè dobbiamo fare in modo da non cadere giù ecco più che altro facciamo così proprio penso che ce la farà ad alzarci perché se la facciamo troppo pesante non ce la fa è un po' bruttino lo so non è granché però per una cosa fatta a volo direi che va bene magari gli diamo un ultimo tocco così così gli mettiamo questi per finire due tre ma dai non c'è male quindi questo è come creare un ascensore andiamo qui chiacciamo la E e saliamo sopra signore e signori benvenuti sull'ascensore di Zerka l'unica cosa è che se cadiamo giù non possiamo farlo scendere più il nostro ascensore come fare per mettere due pulsanti ve l'ho fatto vedere un sacco di volte in altri miei video ve lo faccio rivedere anche adesso dai perché sono magnarimo e questa volta ve lo faccio vedere allora prendiamo un blocco normale un semplice blocco boh prendo uno di questi perché non li ho mai usati e penso sia ora di usarli vai mettiamo così in questo modo qui va più che bene poi prendiamo il boring lo dovremmo mettere centrale lo mettiamo non lo so dovrebbe essere centrale mettiamo altri due qui mettiamolo qua così ok poi quello l'ho messo per sbaglio ma adesso lo tolgo allora prendiamo una pipe ci serve una di queste e dei sensori sensori ok ci servono i sensori e un controller un semplice controller anzi due controller perché dobbiamo mettere due pulsanti quindi due controller allora in questo caso uno e due pulsanti ne potremmo mettere anche tre però adesso ce ne servono due facciamone due allora questo va qui mettiamo questo uno sopra e un altro deve andare sotto non so se ce la faccio non credo vabbè ce la metteremo dopo allora due sensori sui lati ok fin qui ci siamo e colleghiamo un sensore ah qua non lo possiamo attaccare perché non sono collegati aspetta allora se noi facciamo in questo modo adesso potremmo attaccarlo fa vedere si infatti me lo fa vedere allora per collegarlo stacchiamo questo pulsante con shift e attacchiamo uno dei sensori uno qualunque a questo controller ok ci siamo questi qua vanno collegati a questo centrale ah è qui ho sbagliato allora lì abbiamo messo un bearing poi qua dobbiamo mettere un altro per l'altro pulsante ok ogni bearing equivale a un pulsante perché noi dobbiamo collegare un controller a ogni bearing quindi facciamo uno qua e un altro di qua e poi chiudiamo di nuovo il tutto mettendo questo che ha doppia doppia via diciamo che può andare sia sopra che sotto ok e impostiamo il controller che quando viene attivato va a 90 gradi forse è un po' difficile sto cercando di spiegarlo il più semplice possibile però magari se seguite i miei passi seguite tutto passo per passo quello che sto facendo riuscirete a capirlo e questi controller vanno attaccati uno per esempio al pulsante qui e un altro andiamo a mettere un pulsante avanti si mettiamocelo avanti dico tipo per chiamare l'ascensore e farlo scendere giù va la mettiamo facciamo una la mettiamo qui quindi ci andiamo a mettere di nuovo questo perché fa figo e questo quindi questo qui me lo vado a mettere qui un corner qui e un pulsante qui ok quindi un pulsante perché non me li fai vedere eh non ho capito perché questo non è collegato vedete un po' che macello non sono collegati e quindi non me li fa vedere allora basta perché mi sto complicando la vita prendiamo un blocco semplice questo allora facciamo così e facciamo così e facciamo così adesso sono collegati quindi adesso me lo debba far vedere ok a questo pulsante qua premiamo un pulsante qualsiasi ok e si attiva ricordatevi dobbiamo mettere anche un altro pezzo di qua deve essere a T ok per far scendere l'ascensore basta rischiacciare il pulsante e far scendere l'ascensore saliamo sopra schiacciamo il pulsante si attiva l'ascensore sale semplice mettiamo in caso che cadiamo giù come faremo a premere il pulsante là sopra non c'è bisogno perché basta che noi riprendiamo ripremiamo questo pulsante qui e l'ascensore scende molto easy in che modo funziona questo sistema i pulsanti non comandano l'ascensore in realtà comandano la rotazione di questo meccanismo che lui ruotando di 90 gradi va davanti al sensore e il sensore manda il segnale all'ascensore di partire quindi noi potremmo mettere anche tre pulsanti per esempio basta mettere come vi ho detto un altro b-ring in che modo in questo modo semplice mettiamo un altro b-ring qua ne mettiamo di nuovo la T se la vado a prendere eccola qua vado a prendere la T così una a destra c'è uno sopra e uno sotto una a destra una a sinistra poi dipende un altro controller perché per ogni controller serve sempre per ogni pulsante serve un controller glielo mettiamo sempre qui collegato all'altro b-ring così e questo controller qui deve fare sempre una rotazione di 90 gradi sempre 90 gradi 90 e questo lo colleghiamo a quest'altro pulsante qua noi abbiamo tre pulsanti anche da dietro noi possiamo dire all'ascensore di scendere avanti qui diciamo di salire qua gli diciamo di scendere tre pulsanti possiamo mettere quattro cinque allunghiamo questo qui e mettiamo altri b-ring altri b-ring di questi che fanno ruotare il sistema e fanno attivare i sensori o il sensore sempre quel sensore la possiamo mettere un'altra cosa una qualsiasi altra cosa poi volendo potremmo mettere anche una porta qui davanti del tipo mettiamo uno così di corner mettiamo il b-ring poi magari mettiamo questo così perché mi va così e poi gli vado a posizionare questi qua così qua non ci vanno questo li posso metter sì mettiamo questi o mettiamo le curve semmeno le curve sono più belle sì indubbiamente e danno sicuramente meno fastidio se darebbero fastidio mettiamo le curve oppure aspetta aspetta ancora più bello così e sopra acqua qua non va bene aspetta adesso ho trovato il sistema e qua gli vado a mettere questo così mi piace colleghiamo la porta sempre a questo controller però giustamente dobbiamo dirgli che all'inizio deve essere aperta giusto la porta si deve aprire vogliamo fare che si apre prima la porta e poi sale l'ascensore no io direi e la porta deve rimanere aperta quindi ci mettiamo meno 90 perché questo è lo stato iniziale di ogni cosa quindi ci mettiamo meno 90 e la porta sta aperta ok se noi saliamo adesso la porta si dovrebbe chiudere no non è vero niente allora scendiamo giù dobbiamo rifare tutto il sistema allora dobbiamo far sì che la porta si chiuda più 90 questo qui deve partire dopo perché si deve prima chiudere la porta e poi deve partire l'ascensore altrimenti verrebbe che mentre l'ascensore sale la porta si è chiusa cioè quando noi siamo sopra ed è inutile quindi mettiamo tutto a zero e questo qui lo passiamo avanti in che senso in quest'altro schema qui perché questo è il tempo successivo lui fa prima tutte queste funzioni qua poi fa queste poi fa queste e di conseguenza quindi lo schema è no più 90 più 180 più 180 più 180 più 90 e poi qui mettiamo che si riapre la porta con meno 90 ok quindi in questo modo la porta è aperta noi entriamo facciamo il pulsante la porta si chiude l'ascensore sale oddio la porta si apre vabbè ti schizza un po' nella tua casa cioè ti fa saltare proprio le cervelle vedete la porta si chiude quando uno scende poi scende l'ascensore tranquillamente una discesa un po' ripida stavolta e la porta si apre quindi questo è come creare un ascensore spero di essere stato il più chiaro possibile ho spiegato tutto passo per passo nelle parole più semplici possibili in più l'ho voluto fare anche questo video perché ieri non c'è stato Scrap Mechanic questo quindi sarà un video un po' più lungo spero che vi piacciano dei video un po' più lunghi spero di avervi fatto piacere e volevo passare anche a dei saluti che adesso mi hanno invaso però le mail non sono riusciti a scriverli quindi perderò ancora altro tempo non ce la faccio quindi credo di non farcela a leggerli magari nel prossimo video vi chiedo scusa che non l'ho fatto ma nel prossimo video lo farò sicuramente anche se ci sono meno persone che forse avete capito che è un po' difficile salutare tutti però dai prenderò nota e lo farò nel prossimo video allora un'altra cosa che volevo farvi volevo dirvi una cosa molto importante iscrivetevi alla pagina facebook che adesso lì ho intenzione di annunciarvi del lancio del nuovo canale TS del mio canale TS in collaborazione con il mio amico Infinity che sarà anche lui a gestire la cosa e in più farò la lista delle cose che mi avete detto di fare e delle cose che sto facendo con alcuni screen e le cose che i progetti miei lo torno a ripetere e varie e tante altre cose questi qua non mi ricordo se li ho salutati o no adesso tengo scritto tanti voi nomi non mi ricordo se li ho salutati vabbè nel prossimo video da Zerk è tutto spero che vi sia piaciuto questo video vi invito come sempre ad iscrivervi al canale la pagina facebook e quella di google plus e da Zerk è tutto ci vediamo alla prossima puntata di Scrap Mechanic ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti